Una rete per sconfiggere il melanoma. La Federico II di Napoli mette a disposizione un network di specialisti per seguire i pazienti a 360 gradi. In caso di malattie della pelle, infatti, ci si rivolge in prima analisi al dermatologo, ma non è sempre sufficiente, soprattutto quando ci si accorge che la situazione è più grave, come nel caso di melanoma. Una diagnosi precoce ed uno staff medico completo può aiutare il paziente oncologico. Un'equip di medici che in accordo con la regione e la Federico II di Napoli sono a completa disposizione del territorio e quindi dei pazienti che non si sentono più soli. Ascoltiamo il professor Mario Delfino, referente scientifico del Centro per la precancerosi cutanee e la diagnosi precoce del melanoma, del gruppo operativo melanoma dell'Università Federico II di Napoli. Tutti i pazienti sono allarmati quando osservano sulla propria pelle escrescenze, lesioni scure, neoformazioni pigmentate e c'è una grande attenzione a farli osservare al dermatologo che è il primo impatto che toglie questa lesione e purtroppo alcune di esse sono in realtà un tumore maligno che può essere se non preso in tempo mortale. Il gommo melanoma serve proprio a far sì che non ci siano melanomi non presi in tempo e anche quando già si è sviluppato il melanoma ci sia tutta una rete assistenziale che la Federico II mette a disposizione con molti altissimi livelli di specialità per curare efficacemente questa terribile malattia. Con questa rete è cambiato il tipo di approccio verso il paziente oncologico, una vera e propria rivoluzione, come spiega il professor Sabino De Placido, professore ordinario di oncologia medica dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Essenzialmente con la costituzione della rete oncologica è cambiato notevolmente la metodologia d'approccio ai pazienti oncologici perché è una vera e propria rivoluzione e i pazienti viene visto in maniera multidisciplinare da vari specialisti che concorrono a definire la strategia terapeutica di questi pazienti. È cambiato moltissimo anche perché è predefinito un percorso diagnostico terapeutico di questi pazienti quindi non è affidato più alla loro possibilità di cercare chi sia lo specialista, quale sia l'indagine migliore ma è tutto già precodificato e quindi è un sistema se possiamo affermarlo centrato proprio sul paziente e per questo porterà notevoli vantaggini non solo in termini di efficienza sanitaria ma anche di qualità delle prestazioni.